Il messaggio che do da sindaca da istituzione è ovviamente che non mi faccio e non ci facciamo intimidire da questo atto e credo che, come dire, è successo a me ma molto spesso purtroppo i sindaci ricevono questa tipologia di minacce e quindi uno Stato che ha dimostrato anche con le risposte di essere vicino ai sindaci. Quindi andiamo avanti ancora con maggior determinazione.